Oggi è martedì 2 luglio 2019. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 2 luglio 1947. In un ranch nella cittadina di Roswell nel New Mexico precipita un misterioso oggetto volante. Sui giornali si parla della caduta di un disco volante segnalata dal proprietario della fattoria che aveva rinvenuto sul terreno frammenti di gomma, stagnola, carta piuttosto robusta e asticelle. Il 24 giugno il pilota Kenneth Arnold aveva avvistato nove oggetti volanti non identificati vicino al monte Rainer nello stato di Washington. Per la prima volta si usa il termine dischi volanti. Probabilmente erano pellicani bianchi, animali di 15 kg con un'apertura alare di 3 metri e un piumaggio che riflette la luce solare. Ma il racconto fa nascere il mito degli UFO, navi spaziali extraterrestri alimentato dalla presenza, a Roswell, di una base militare inaccessibile, l'area 51, e di uomini vestiti di nero, i men in black, agenti dell'FBI pronti a requisire dappertutto rottami piovuti dal cielo. Nel 1995, da due inchieste del Congresso degli Stati Uniti, emerge che in quei tempi l'aeronautica stava sperimentando in gran segreto dei palloni sonda con particolari microfoni in grado di rilevare onde sonore generate da missili balistici o test nucleari nell'atmosfera. I resti degli UFO caduti, che i men in black si affrettavano a far scomparire per non svelare il segreto, rappresentavano quindi l'arma tecnologica nascosta per proteggere gli Stati Uniti da quello che era ritenuto un pericolo più grave di una invasione degli alieni, l'armamento atomico dell'Unione Sovietica. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile, viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata!